Pall'Andraion di Città di Castello, terminato il derby Gerardi-Cartoedit-Foligno, terz'ultima contro ultima, partiamo da questo. 3-0, tra virgolette facile, anche se di facile non c'è mai niente. Francesco? Allora, intanto non siamo più terz'ultimi. Da adesso? Da adesso. Abbiamo vinto e ci voleva proprio. Dopo anche la settimana l'amichevole che abbiamo fatto era stata un'ottima amichevole. E oggi è venuto Foligno, per fortuna nel senso che abbiamo messo in pratica quello che abbiamo fatto di buono in questo periodo. Ora viene il bello perché abbiamo le prossime tre partite che ci interessano in modo particolare. Questa da adesso è finita, tre punti e da domattina subito Latina perché ci interessa ancora di più. Dal punto di vista tecnico abbiamo visto un libero che non ha mai fatto il libero. Sì, un libero perché Veschi ha dei problemi e non ha potuto giocare. Ha giocato Rinaldo, che è il nostro schiacciatore, che però per motivi si allena non con costanza. E oggi ha fatto il libero. Un po' di confusione all'inizio, poi dopo è partito perché ha delle qualità. Quindi è andata. Di buono oltre che i punti, cosa? Una partita come quella di oggi? Credo che quando è stato ora di vincere abbiamo spinto e abbiamo vinto. Credo che il tasso tecnico non sia paragonabile e quindi va bene.